Il colonello Townsend Il colone Golpec Sebbene il pubblico, specialmente quello femminile, parteggiasse entusiasticamente per lui, il romantico colonnello è arrivato un buon ultimo Di nuovo a Campino Per Hamburgo parte Nadia Gray, nata in Romania ma da molti anni in Italia che la considera come la sua seconda patria La brava e bell'attrice ha girato mezzo mondo ma, trano a dirsi, è la prima volta che si reca in Germania Si realizzerà insieme a Victor De Cova un film dal titolo Musica nel sangue Al centro Incom, Maria Giovannini, Miss Roma 55, fa gli onori di casa nei confronti di due personaggi che la musica ce l'hanno davvero nel sangue Eddie Lane e Xavier Cugac, che sono a Roma manco a dirlo per girarvi un film I due celeberi miconi oggi non si staccano mai dal loro temizia e cana da guardia Famosa ma compiacente, la coppia non si fa pregare per evirsi Baila... Oh ma...